Salve al popolo di YouTube, Leonotto bis di dicembre a primo colpo ha tirato fuori l'ambo secco già è pronto il tris eccolo qua, ambo di figura 3 questo ci arriva da dalla Toscala, in Firenze andiamo avanti quest'altro dalla Sardegna, Cagliari ricevi da Riotto, se no grazie prof, ambo a primo colpo, bella botta 11 e mezza procedo al pagamento ecco qua, si è preso quello nuovo è fatto bene, a primo colpo ancora un altro, questo è il ricevitorio a Bari è un po' si, Bari, via è sempre l'ambo amici miei secchissimo vediamo diciamo di qualche altro e poi basta insomma già è pronto il Leonotto tris qui è stato giocato sempre in Toscana il ricevitorio a Firenze 21-62 e anche l'ambo in terzina giustamente ci hanno provato per il Terno mi sembra più che giusto vediamo l'anno quest'altra persona l'ha messa nella quartina di Le Tuso ma sempre a primo colpo è 240 volte da posto vedendola un saluto all'amico di Caserta ci siamo a scuola vediamo ancora il 2882 là veramente c'è con quella vincita là penso che vi fate il Capodanno abbondantemente perché un solo estratto su due posizioni su due ruote ma che poi ecco come in casa mia vedete che poi si verifica e solo due numeri con un bambetto 2882 è stata una cosa veramente bella un attimo solo solo un secondo un attimo soltanto ecco qua e quindi come vi stavo dicendo è stata una cosa bellissima e noi siamo pronti per la notte triz e vediamo cosa accade qui c'è l'ultimo mio capolavoro Lambo Magico del 90 va bene da Leone è tutto ciao ciao ciao